Ciao belli e benvenuti in questo breve video dove voglio mostrarvi l'acquisto di due gadget molto utili, ovviamente compatibili con tutti i modelli Dacia. Il primo è il copricintura di sicurezza morbido fatto di spugna con il marchio Dacia e il logo Dacia che trovo comodo ed utile perché non so se capita anche a voi ma a me d'estate con la t-shirt la cintura di sicurezza mi struscia vicino al collo, mi graffia un po' mentre grazie a questa spugnetta evito questo attrito verso il mio collo. Inoltre ha anche la funzione di tenere dritta la cintura perché non so se capita anche a voi quando sgancio la cintura molte volte si contorce su se stessa. Il secondo acquisto è il guscio cover portachiavi che ha la funzione di proteggere la chiave dall'acqua, sapete quando piove si bagna dalla polvere e inoltre dà un tocco di colore che non guasta. Facile da montare basta inserire la chiave e il guscio si allarga aderendo bene e precisamente ai due pulsanti. Per chi è interessato sotto al video trovate il link per il guscio cover che costa poco più di 4 euro compresa la spedizione mentre per chi è interessato alla fascia copri cinture sempre sotto al video trovate il link per acquistarle su ebay. Se avete apprezzato questo video potete ricambiare cliccando sul pulsante like e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto mentre per chi vuole fare qualche domanda me la può fare su instagram obaldo.info. Un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti